Ciao amici, la risposta è ovviamente sì, vale la pena abbonarsi alle scienze perché ha una copertina bellissima. E finiamo qua. No, non è vero. Allora, prima abbiamo parlato di una rivista sui giochi da tavolo, sui giochi di ruolo. Adesso parliamo di una rivista scientifica, potremmo parlare anche di una rivista di musica, ma tipo classic rock, ma non ci sono abbonato, in verità. Quindi vale la pena abbonarsi alle scienze? Ovviamente sì. Rivista mensile, questa probabilmente la conoscete. Rivista mensile, appunto, di scienza di base e applicazioni tecnologiche con un po' di filosofia. 5,90€. Si trova questa molto più facilmente di io gioco, in verità. Perché vale la pena abbonarsi a questa rivista? Ma in realtà, se siete così più... vi piace esplorare, c'è forse una scelta migliore, una rivista migliore. Una e una sola. E dopo la vediamo. Perché secondo me le scienze è la miglior rivista scientifica divulgativa italiana. Quindi se avete letto... se vi piace Focus, comprate le scienze. Se fate un lavoro di tipo scientifico, che quindi siete un medico, un ingegnere, un biologo, nutrizionista, un... qualsiasi cosa, un chimico, e non siete abbonati, non lo comprate tutti i mesi? E fatevi delle domande. Vi serve per tenervi aggiornati. Se invece fate un lavoro più psicologico, c'è Mind, che è la spin-off, solamente. O se siete neurologi, psichiatri, dovete prendere entrambi. Mi spiace per voi. Ovviamente se siete dei naturopati o degli osteopati, non compratelo, perché ci potrebbero essere delle informazioni all'interno che smontano il vostro lavoro. Bene. Dopo questo free dissing, che mi porterà un sacco di amici. Vi dico che, vabbè, in realtà leggetelo assolutamente. Tra l'altro, questa è la rivista nuova, quella di gennaio. Bene. Ovviamente alla fine ci sono gli editoriali, come sapete, c'è quello di Viotrice Mautino, la ceretta di Occa, che si vede qui, e di Bressanini che fa il budino di Cachi. Ma c'è anche, nella pagina prima, quello di Michele Bellone, questo mese, che si chiama L'imperativo narrativo. Ok? Adesso non so se si vede, ma parla del mondo disco. Non so se avete presente che cos'è il mondo disco. Una famosa serie di romanzi di fantascienza. Questo qui è notato anche di giochi di ruolo. Molto interessante. C'è un articolo bellissimo sull'epidemia spagnola del 18-19. Molto interessante. C'è un articolo, anche questo molto interessante, sul linguaggio e come il linguaggio viene utilizzato nei media per fregare e ingannare nelle pubblicità, ad esempio, ma non solo. Quindi abbonatevi sicuramente. È sicuramente la scelta migliore in Italia. C'è Focus, se vi piace, ok. Ma Focus alla fine ci sono i porno. Cioè, diciamo, le cose come stanno. Di scienza, i frontieri della scienza, aggiornamenti sempre nuovi, ce ne sono pochi. BBC Science. Anche lì è un livello leggermente superiore a Focus, ma se volete essere... cioè, se lo fate di lavoro, in sostanza, se siete degli altri lavori, compratelo. In più, se invece, come dicevo prima, siete dei luminari della scienza, il mio consiglio, in verità, è abbonarvi alla versione inglese, cioè americana. Che è, dov'è? Scientific American, come è scritto qua. Perché? Perché costa meno, a meno, a meno che non abbiano cambiato nell'ultimo anno, costa meno l'abbonamento, farselo spedire dall'America, costa meno che farsi l'abbonamento alle scienze in Italia. E gli articoli sono, diciamo, escono due o tre mesi prima. Ok? Gli articoli che leggete qui, quelli americani, ovviamente, li leggete prima. Quelli italiani, ovviamente, mancano, ma dipende da quanto vi piace questo argomento. Quindi, niente. Consiglio è questo. Abbonatevi alle scienze, certamente. Se potete, a Scientific American. E niente. Arrivederci.